E adesso vi raccontiamo una storia, una storia di una ragazza che si chiama Cristiana, una ragazza moderna, una ragazza come tante, forse con qualche problema in più. Genitori separati, un inizio di anoressia e dentro un grande sogno, quello di diventare attrice. Ma il destino le riserva una sorte diversa, quella di un incontro molto speciale, un incontro con l'amore assoluto, quello per Dio, nella stanza del cuore. C'è un'espressione di Santa Teresa che diceva che la nostra persona è come un castello dove ci sono tante stanze, ma c'è una stanza la più intima, la più interna, la più nascosta dove c'è il grande incontro. E dice che è lì che noi dovremmo abitare. E però capita spesso che siamo o nelle altre stanze o addirittura fuori del castello, nei giardini, nel parco. Questa è la stanza del cuore. Nella stanza del cuore, attraverso su ultimo libro, centrato per noi, Luciano Marigo, raffinato autore vicentino di profonda estrazione cattolica che ci propone, in poco più di 200 pagine, la rivoluzionaria scoperta di un amore, quello di una giovane donna per Dio. Per ottenere il suo primo ruolo, quello di Suor Crocifissa, una monaca morta in fama di santità, la giovane aspirante attrice, ma tormentata cristiana, si accosta per puro interesse professionale al monastero di Santo Spirito. Qui rimarrà via via stupita e come folgorata dal misterioso mondo della clausura femminile, attraversato da una bellezza e da una delicatezza di vita insolite. Cristiana, la giovane protagonista, esce dalle pagine del libro con particolare realismo. Di lei colpisce, oltre che la trasformazione interiore, che subirà pagina per pagina, anche un iniziale tratto battagliero, caustico, quasi sgarbato. Perché non ama la vita, perché non ha ancora scoperto un significato accettabile della sua esistenza. Ecco, c'è tutta una storia di cui si capisce qualche cosa leggendo la prima parte, quella che è poi anche stesa in terza persona, mentre la seconda ci introduce nel suo animo attraverso anche proprio questa scelta della prima persona della confessione. Io ho un rapporto molto particolare con la realtà. Io sono molto isolato, molto, potrei anche dire chiuso, se questa parola non si prestasse anche interpretazioni poco onorevoli. in fondo, ecco. Il libro non rappresenta la realtà, non racconta le cose nella forma della registrazione della vita concreta, reale. C'è una verità di un altro tipo che in fondo la ricerca del mio racconto, no? Cioè la verità della psicologia umana, per esempio, io penso di avere costruito delle persone vive e autentiche, veri, ecco, che non corrispondono tuttavia a un personaggio che io abbia conosciuto, ecco, no? Il rapporto tra fede e scrittura. Lei è uno dei pochi, possiamo dire, scrittori cattolici in Italia. Questa fede, questa ricerca della fede si esprime bene nei suoi libri e nelle sue parole. Posso farle una domanda assolutamente intima e personale? La stesura di questi romanzi in modo particolare, per esempio, della Stanza del Cuore, che è una ricerca di Cristiana e anche una ricerca di Luciano Marigo, una ricerca interiore? Io dovrei dire così, no? È chiaro che un libro così non può nascere se non c'è un'esperienza cristiana che lo motiva in profondità. Nell'atto di inventare la storia non c'è nessuna intenzione né di testimonianza né di, a maggior ragione, di quello che noi chiamiamo apostolato nel nostro linguaggio, no? Di proselitismo, insomma, neanche di impegno educativo. C'è semplicemente un immaginario che è invasivamente cristiano, che si esprime spontaneamente e che trova la sostanza del racconto nella maniera più spontanea e immediata e senza un piano preordinato. La Stanza del Cuore ha già avuto consensi significativi da parte della stampa di settore, anche se non ha ancora raggiunto il grande pubblico. Un peccato dal momento che il libro si presta ad una lettura veloce ma non leggera. Io so bene che questo è un libro da nicchia, cioè un libro che non può raggiungere un pubblico molto vasto, oggi che la secolarizzazione ha invaso pervasivamente non soltanto la società, il mondo, no? Ma anche i cristiani. Io penso che i cattolici avrebbero dovuto accoglierlo con più cortesia, con più cordialità.